Buonasera amici di non aprite questo blog, benvenuti sul canale per questa live speciale in compagnia di un ospite che ritorna dopo tanto tempo qua con me a parlare di cinema sono molto contento di averlo con me perché è una persona che lavora nell'ambito del cinema delle collezioni, delle edizioni, un sacco di cose e poi è un super appassionato di horror con me oggi c'è Mattias Mazzetti, ciao come stai? Ciao Gons, è un piacere rivederti Grazie anche per me Quando ti invito, grazie Giorgio per i 100 bit, quando ti invito in live sono sempre contento perché parlare con te di cinema è sempre piacevole e quindi penso, ah ma noi andiamo in live e parliamo così liberamente di qualsiasi cosa senza dover, non lo so, per forza dire qualcosa di... è proprio una chiacchierata tra amici, no? Manca solo una bella birra qua davanti Dai, non iniziamo già pensando a cosa ci manca Comunque, tu sei stato in live con me l'ultima volta sul canale di Ore d'orrore, ti ricordi? Sì, certo È stato un disastro il tuo collegamento, ti ricordi che casino? Assolutamente no, non ho una memoria cerebrale E praticamente non so per quale ragione, a un certo punto era tutto a posto e tu non so perché non si ricollegava più, era un problema sempre con me No, era stato Bonetti, sì, era stato Bonetti E Bonetti con le sue influenze, sì, sì Io provo a presentarti un attimo per chi non ti conosce anche perché sono tante persone nuove nella community e poi comunque sono persone che magari si approcciano al mondo midnight, al mondo del cinema anche da collezionisti si approcciano dopo Allora, tu sei un designer, art director che si occupa principalmente di grafica, illustrazione e comunicazione per il cinema fondamentalmente Esatto E sei, diciamo, molto conosciuto, secondo me tra i fan della Midnight Factory perché comunque dai la Midnight ha avuto un grande successo comunque nel mondo dell'horror e tu hai avuto io, era una domanda che volevo farti dopo ma mi viene così automatica poi hai avuto anche modo di hai avuto anche modo di poterti esprimere grazie a Midnight, no? Nel senso che tu non è che ti limiti a fare solo la grafica ma molte edizioni sono impreziosite dalle tue illustrazioni Ma diciamo che è stata veramente un'occasione l'occasione della vita nel senso che realizzare una linea del genere dall'inizio alla fine per così tanti anni dall'inizio proprio, dal logo fino a... Esatto, esatto mi ricordo ancora il giorno in cui abbiamo iniziato questa avventura con Alessandro e tutti i ragazzi di Plion ex Coch Media Esatto, perché la Coch Media ha cambiato nome e ora si chiama Plion, no? Giusto, diciamolo perché poi la gente dice ma dove è finita Coch Media? Si è evoluta, si è ingrandita, è diventata ancora più importante adesso si chiama Plion ma all'epoca era la famosa Coch Media Coch Media, detto la che dè Coch Media, detto all'italiano ed è partita questa avventura clamorosa sinceramente non mi aspettavo che durasse cioè un'evoluzione dei sogni praticamente una collana che si è tramutata in qualcosa di raro nel panorama internazionale adesso stiamo parlando di centinaia di titoli non più quei due, tre, quattro, cinque con cui siamo partiti quindi è qualcosa di fenomenale è cambiata proprio la prospettiva perché io immagino che all'inizio fosse vabbè facciamo questo, questo e quest'altro adesso invece veramente è una montagna di roba che esce Sì, l'idea era di mi hanno coinvolto nella realizzazione di questa linea sinceramente io non il progetto di base sapevo che era a lungo termine ma veramente arrivare a una produzione così imponente era semplicemente nei sogni e nei desiderata poi e continua, no? continua nonostante tutto si sa che si fanno delle scelte anche coraggiose si prova a lanciare dei nuovi prodotti, nuovi brand comunque visto che l'ho detto ti fermo un attimo perché non voglio poi dimenticarmi giusto per far capire faccio vedere che il tuo apporto al di là delle locandine classiche che vengono usate il tuo apporto è cioè adesso non per so che a te non piace essere troppo incensato e troppi complimenti dire te lo ha disagio però io vorrei fare un complimento a Midnet anche per il fatto che comunque veramente ha lasciato spazio anche a un artista di esprimersi, no? e quindi in qualche modo per quello dico in qualche modo di riflesso sei diventato anche noto tra i collezionisti come illustratore di questa collana quando serve non sempre questa è una tu sai che è una delle mie preferite qualcosa di strepitoso la casa nera questa è l'illustrazione fatta da te con l'iPad poi magari se hai lì l'iPad non lo so vuoi farci vedere qua c'è anche questa bellissima di non aprite quella porta 2 anche questa è fenomenale io poi ho un'altra mia preferita che è questa qua di Kerry lo sguardo di Sata questa è la prima edizione di Midnight Classics che è uscita successivamente una collana parallela molto bella ancora più curata anche qui c'è un tuo comunque intervento notevole, no? mi sembra questa non è mia non è tua invece io pensavo che fosse tua nel senso che ci avessi comunque fatto un'elaborazione ma guarda vittorica diamo veramente a Cesare quel che dice a Cesare quel che dice le edizioni sono realizzate al 90% al 90% da me però quel 10% che non ha realizzato da me è curato molto bene da in questo caso Lucky Red i titoli Lucky Red non sono tutti fatti da me molto spesso la trilogia della vendetta è gestita direttamente dai creativi è molto molto bella tra l'altro rispetto all'inizio Midnight come etichetta comunque c'è stato un ampliamento di collaborazioni incredibile poi rispetto all'inizio no? sì poi all'inizio c'era anche la possibilità c'è stata di collaborare anche per quanto riguarda le copertine la creatività con Enzo Sciotti no ma infatti ce l'ho guarda ma non credere che veri e propri questo forse è il capolavoro secondo me che ha fatto per che è la mosca bellissima poi c'è c'è Fantasm che è sempre di Enzo Sciotti purtroppo probabilmente se non fosse purtroppo deceduto avrebbe lavorato ancora con Midnight per tanto sicuramente per prima cosa perché era una grandissima una persona veramente disponibile in gamba e speciale e poi lui stiamo parlando di un maestro per me era solo un piacere sapere quando mi veniva detto guarda che l'artwork di questo titolo ciao Claudio era Enzo eh sì è bello era solo per un appassionato perché prima di un designer sono un appassionato quindi è stato veramente tra l'altro io ti faccio sfatare ti faccio sfatare un mito così perché è una curiosità bella per chi non è nell'ambiente intanto ringrazio Vitto per i 85 bit e do il benvenuto a Claudio nuovo follower ehm c'è questa cosa Claudio scusa se ti disturbo Gonz ma Claudio Gol è un grande appassionato di cinema io so chi è è uno che è un frequentatore accaduto dell'UCI di Cocca è sempre nelle ultime file a guardare la qualunque potrà dare il suo contributo ottimo ottimo spero gli piace il canale anche per rimanere insomma poi poi io ti dico adesso tu sei un po' in un momento della vita molto impegnativo quindi però tu sai che a me piacerebbe averti qua più spesso però facciamo quello che si può comunque io volevo sfatare non sfatare un mito però una curiosità che ho sentito da te ma anche da 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 shot in un'intervista comunque cioè quindi uno che fa che faceva il tuo lavoro anche come cioè prima di te faceva questo lavoro qua no di interpretare i film cioè che non tutti i film vengono visti da chi fa l'illustrazione delle locandine eh beh qui sfondi una porta aperta Gonco penso di avere visto il il 20% dei film che hai disegnato ho disegnato un poster o un'edizione sinceramente però l'ho sentita anche da shot questa cosa in una sorta di interview comunque era un documentario parlava del fatto che non sempre cioè lui buttava giù un'idea prima ancora di aver visto il film ti faceva dare due o tre indicazioni e poi buttava giù un'idea di pancia ma sì ma per lui era ancora più difficile perché erano altri tempi era molto tecnicamente molto più complesso andare a recuperare il film mostrare fare respirazione io il giorno d'oggi sinceramente mi collego su guardo su youtube il trailer mi faccio un'idea vedo eh almeno però comunque è interessante perché in alcuni casi ci sono dei casi della storia del cinema dove la locandina non c'entra proprio una mazza con il film e altri casi che non c'entra però in qualche modo la locandina ha un successo incredibile perché è bella sì non c'entra ma poi la cosa bella è che non c'entra ma spesso e volentieri volutamente non c'entra quindi è proprio uno studio a tavolino ah ok perché il nostro comunque è un lavoro e l'obiettivo è cercare di è comunque un lavoro di marketing di comunicazione certo assolutamente tu hai anche fatto delle diciamo delle presentazioni per degli studenti mi sembra su questo tema sul tuo lavoro ah lì sì ho partecipato se vuoi anche spiegarci delle cose in modo più didattico a me fa piacere perché comunque sai parlare sempre di cinema con mi è piaciuto non mi è piaciuto invece se si può parlare anche un po' di di quello che c'è dietro no no ho partecipato ad alcuni master di Napier che si occupa di questi realizza questi fantastici master molto mirati e dedicati in questo caso sono molto le conoscono Napier si occupano di comunicazione eccetera esatto esatto e mi avevano lasciato uno spazio per parlare proprio di locandine manifesti e tutto quello che riguarda il marketing che c'è dietro a un manifesto cinematografico poi avevano un sacco di altri ospiti era un corso veramente molto bello secondo me però io ho dato il mio contributo tra virgolette la mia esperienza lato visivo lato locandino per tutti gli elementi perché per come come vengono studiati realizzati che quanta gente c'è dietro le indicazioni che vengono date perché comunque è un mondo particolare affascinante per chi ama il cinema è come un un dietro le quinte un making of perdonami se ogni tanto mi distraggo ma sto cercando delle lezioni perché a me mi è venuta in mente una cosa che voglio farti vedere che riguarda un po' ma non è che le tieni sotto il tavolo vero? perché poi c'è gente no 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 figurati no anzi addirittura questa la tengo in cellofonata figurati no perché poi mi vadi anche di parlare un po' del mondo del collezionismo perché penso che sia poi quello che dà proprio da mangiare all'industria nella parte appunto quella in cui ci sei tu ci sono i ragazzi della midnight che conosciamo e quindi mi interessa parlare anche di collezionismo e allora a proposito di collezionismo ti faccio vedere una delle vedo una maglietta davvero oh bella ci vuole un applauso perché sta bellissima voglia una vera maglietta da collezionista non aprite questo blog eccezionante tra l'altro sei sei a quota due su due per le partecipazioni al dragman to fest quindi sei tutto in regola mi sembra no assolutamente perfetto grazie mi fa mi fa piacerissimo appassionato della festa che spero si ripeta esatto e no ti volevo far vedere a proposito di collezioni questa edizione che penso sia una delle tre le prime no si questa è la la seconda credo che io ho ancora nel cellophane che è una steelbook e ora ti chiedo questo sogno delle steelbook sta tornando mi sembra di capire beh la steelbook impreziosisce il film senza un gradi dubbio però però è anche un po' il desiderio vostro comunque si sta riprovando perché per tanti anni non ci sono state uscite steelbook sono state minime proprio almeno adesso vedo che è uscito Scream 6 Scream Scream 2 insomma The Ring ne sono uscite tante in questi due mesi quindi secondo te perché si fa un altro passo in più verso il collezionista cioè al di là delle classiche che sono veramente dei tesori che scopri apri librettini questa che è l'edizione questo è il corrispettivo dell'edizione semplice ma figa diciamo è un po' il non plus ultra diciamo che è una scelta stilistica fantastica secondo me allo stesso tempo chiaramente l'idea di poter fare tutto steelbook a parte che ai tempi tecnici di realizzazione sono molto più lunghi perché stampare su metallo con tutti gli effetti del caso non è esattamente come stampare chiaramente il materiale costa di più il materiale costa tantissimo stiamo parlando di edizioni molto costose da realizzare quindi devono anche performare bene perché altrimenti il gioco non vale la canzone tra l'altro in questa qua di Scream 2 voglio far notare quanto è bella questa cosa è una roba presa dal materiale del film o è questa è stata realizzata ad hoc negli Stati Uniti ah ok perché è una steelbook Paramount cioè una bellissima scritta dorata a piacere è bellissima bellissima ma poi dipende alcuni collezionisti preferiscono la linea normale e tenerle tutte allineate perfette e regolari te cosa ne pensi? perché uno da steelbook o da media book come sono tutti in classico ma io sono anomalo perché non comprandole non sono messo di fronte alle decisioni importanti nel senso che di gusto di gusto no sempre sicuramente steelbook ma proprio senza ombra di dubbio c'è da dire che però anche la steelbook non è che è di metallo allora ti fai quello che vuoi va tenuta comunque bene perché se no si rovina giusto? certo e anche te avendo un figlio sai bene che esatto no ma sui film credo di averlo terrorizzato così tanto sin dall'inizio che non lo ha mai toccati proprio ah bene troppo a rischio troppo a rischio pure il media Vento dice pure il media book ha il suo fascino anche secondo me anche se alcuni media book sono un po' troppo leggerini forse è bello se è bello rigido la scelta che hanno fatto in midnight è notevole cioè il media book veramente spesso con un materiale veramente prestigioso non sono edizioni economiche in nulla e si vede basta sollevarla no poi è andato c'è sicuramente qualche piccolo difetto all'inizio c'era e il tentativo è stato quello di cercare di migliorare l'edizione fino a non ho visto una ricerca del risparmio ma semmai una ricerca del migliorare continuamente quindi la tasca il libretto staccato poi il pubblico viene il cliente viene ascoltato e se fa delle considerazioni giuste ben venga la possibilità di migliorare l'aspetto del prodotto finale secondo me è andato a migliorare col tempo non si è badati a spese c'è da dire che in media book c'è più da lavorare per te sono più cose in media book c'è da diventare pazzi completamente però c'è anche spazio in tanti media book della midnight per le tue opere io penso che a te faccia piacere comunque questo no vabbè ma loro sono fantastici perché mi permettono di inserire dentro cose che impensabili inimmaginabili illustrazioni io qui macino creo realizzo per ogni per ogni film diverse illustrazioni e se riesco a inserirle se piacciono riesco a inserirle sono un valore aggiunto io da diciamo da cliente a me piacerebbe proprio la butto lì da utente che è proprio mi piacerebbero le cartoline tue all'interno come se fossero proprio un un elemento proprio di personalizzazione della midnight che non ha nessun altro perché la cartolina col poster ufficiale ce l'hanno tutti e quella ci sta a metterla però anche una cartolina speciale con questa cosa qua secondo me ci sta spiacerebbe anche a me però devo dire che invece sulla cartolina abbiamo trovato invece questa soluzione che non è non è neanche scontatissima che quando si può i materiali lo permettono la cartolina è una cartolina realizzata con un artwork differente o originale quindi trovate all'interno all'interno un poster alternativo magari il poster degli anni 70 80 restaurato risistemato qua credo di avere qualcosa anche lo stesso qui ho il cofanetto di De Palma e anche esso ha dentro la cartolina e il resto è detto kill completamente diversa dagli artwork italiani vabbè questa qui è meno bella ma qui eravamo un po' obbligati a utilizzare questo artwork e però la possibilità di inserire dentro materiali originali è molto bella so che è una cosa che può non essere apprezzata da tutti ma sono ma alla fine scontenti sempre qualcuno cioè nel senso fai felice uno scontenti un altro perché come dicevi prima c'è chi preferisce le edizioni in plastica e non le steelbook che mi sembra veramente una cosa allucinante però se è così è così per cui ci sono io che vorrei anche avere le tue illustrazioni che poi in realtà ho già ricevuto anche in forma privata in via privata e c'è chi invece potrebbe dire a me non interessano quindi chiaramente sono d'accordo su questo ma momenti adesso io ti faccio anche domande che forse non ti ho mai fatto momenti assurdi del tuo lavoro proprio riferiti alle edizioni ai poster così ma le assurdità numero uno sono sempre legate alla carenza di materiali per alcuni titoli ma anche per la segretezza perché non si possono far girare troppe cose no ma io impazzisco totalmente quando ci sono delle edizioni dei film bisogna fare un'edizione speciale e il materiale è una foto in bianco e nero fornita così fai un'edizione speciale ma cosa facciamo non c'è nulla fai un'edizione speciale infatti bisogna inventarsi la qualunque forse intendono facciamo un'edizione speciale scrivendo speciale edizione speciale mi rendo conto si bar camminare sin delle miravolanti ciao Hermes sto salutando un nuovo follower volevo dirti guarda poi parliamo anche un po' dei film nuovi finiamo un attimo il discorso anche su volentierissimo su queste cose poi invertiamo switchiamo e sono io che faccio le domande ma infatti ma già lo facevi anche in altre live questa cosa mi fa piacere mi fa piacere invece questa è una domanda abbastanza classica un film di cui dici cavolo ma di quel film avrei fatto un poster fantastico e c'è già l'idea c'è già lo schizzo un film di cui avresti voluto fare il poster o l'edizione ancora o è già uscito con un'altra casa insomma detta proprio da fan non da sinceramente mi sarebbe veramente piaciuto ma non credo che avrò mai modo il mondo di Sam Raimi il give all dead quella mi ha sempre fatto impazzire letteralmente ho avuto una fortuna micidiale di poter mettere mano all'armata delle tenebre anni fa dove c'è l'illustrazione quella famosa di shot ma è una cosa di pazzi però però tra l'altro la casa ha anche questo diciamo errore strano per cui c'è una cioè non lo so la casa di per sé anche se ormai è diventato iconico il poster non rappresenta esattamente il film perché c'è questa baita e poi c'è questa questa falce che forma la 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 lo stesso titolo è un titolo forbiante perché non è un film che parla di una casa ma è di una parla di un'altra cosa quindi in un certo senso tu avresti anche potuto in un'edizione particolare dare una nuova interpretazione del del magari come come le versioni americane no? non lo so noi vecchi appassionati Gons ti affezioniamo a questi abbiamo il popper della casa con su quella falce quella casa che è fatta da artisti italiani pazzeschi che riuscivano ciao Stefano a venderti un film così con un poster veramente fuori sì sì no poi alla fine diventa iconico e poi con quella scritta lì ci hanno fatto anche tutti i seguiti apocrifi finti uno dei migliori è quello con con come si chiama quello di supercar david aseloff aselorf una roba scena io so solo che a 12 anni me le ridisegnavo quelle cose quelle locandine disegnavo la falce che faceva la città allora mi collego a questa tua cosa dei 12 anni e ti faccio una domanda perché voglio anche capirlo io perché nelle altre occasioni mi te l'ho chiesto tu come hai iniziato ad appassionarti di horror perché poi alla fine uno dice ma sì ma farà le copertine della misa ma mica appassionato di horror invece no sei appassionato di horror è una coincidenza perché io sono un appassionato di cinema sì beh chiaramente però dico per l'horror hai comunque un occhio di riguardo per l'horror ho sempre avuto una grandissima passione legata ai nostri famigerati anni 80 dove avevamo le nostre videocassette i nostri canali alle 11 di sera con film Zeotibia hai visto che ho recensito il documentario di Zeotibia sì l'ho visto ma non l'ho ancora è abbastanza commovente soprattutto quando parla dei dei doppiato ci sono c'è un doppiatore molto bravo che fa Zeotibia insomma abbastanza nostalgico come documentario e vuoi strappare una lacrima eh sì sì no ma io perché io sono uno che piange davanti alle cose dei film eccetera quindi io voglio che anche gli altri piangono intanto c'è Thomas se vuoi se vuoi salutarmi no c'è Thomas ciao ciao Tom Thomas è una delle persone che apprezzo di più al mondo Thomas e Sara mi saluto anche Sara che ascolta ascolta senza però collegarsi con il suo account quindi mi fa uno spettatore in meno grazie Sara però no loro sono fantastici spero di rivedermi presto perché è sempre un piacere mille racconti poi loro sono degli appassionati pazzeschi hanno sempre un titolo da consigliare sì sì come fossero dei giornalisti praticamente seguono qualsiasi cosa ma no no comunque Gonzo tornando a noi sì è una passione innata non c'è un vero e proprio motivo forse perché mi terrorizzavano ma tipo ma tipo quale quale film perché io mi ricordo per esempio mi fu la casa un po' ad aprire la curiosità poi Nightmare tu hai qualche film in particolare oppure sono anche per te quelli di più famosi tipo non so qual è il film che proprio ti ricordi che da piccolo hai detto wow che figata questo film horror ne ho visti due che mi hanno sconvolto e non sono più non mi sono mai più ripreso forse tre è un fenomeno di Dario Argento che vedendo a undici dodici anni non ci ho dormito mai più probabilmente e lo squalo per lo lo squalo mi ha impedito di fare il bagno per decenni praticamente penso a tutti e poi un titolo a sorpresa che mi ha lasciato completamente sconvolto mi ha rovinato l'infanzia è Robocop sì che alla fine è un po' horror a modo suo un titolo completamente sottovalutato da quel punto di vista ma secondo me è uno dei film più violenti che abbiamo mai visto in un anno è bello è bello adesso lo rivedo e dico ma è una cosa inaccettabile Robocop mi piaceva essere trasmesso così in scioltezza mi ricordo che mia mamma mi portò al cinema perché aveva vinto due biglietti e si era confusa perché mia mamma pensava che fosse cortocircuito invece era Robocop è proprio cioè cortocircuito è proprio per famiglie invece io ho visto Robocop al cinema di Borgomaniero e mi ha mi ha completamente devastato penso di averne visto mezz'ora perché il resto ero girato in lacrime e da allora comunque con gli shock che però lasciano qualcosa intanto Tom ti vuole fare i complimenti e le congratulazioni per la riuscita della start up del gioco dopo parliamo anche dei giochi grazie anzi io anzi adesso scusami mi distraggo un attimo perché voglio prendere voglio invitarvi per favore ad andare a seguire intanto il profilo ufficiale di Mattias che è Vertigo Advertising adesso mi metto il link in chat anzi facciamo così perché sono un po' bloccato chiedo per favore a Thomas di mettere il link sia di Vertigo Advertising in chat e anche quello di Dumb Things che sono che è la nuova diciamo nuovo progetto di Mattias e Luca Maragno dedicato ai giochi da tavola adesso poi ne parliamo anche perché il tempo sta volando adesso spero che Mattias ci lasci qualche anche qualche minutino in più vediamo se riusciamo comunque vedi che poi alla fine ognuno ha i suoi film sono sempre quelli però ognuno ha il suo il suo trauma il tuo bollino rosso qual è? no il mio il mio trauma io stando tanto in live ho raccontato mille volte quali sono stati un po' i miei momenti però a parte che io ricordo questo credo non averlo mai detto a nessuno che la notte mi stavo sveglio mentre mia madre dormiva si parla di otto anni cose così sei anni a guardare film sui vampiri cose così e mi terrorizzavo quindi forse per quello che sono un essere traumatizzato e poi mi ricordo che comunque in prima media tipo avevo voluto vedere questo film con gli amici che era la casa e mi spaventò così tanto che feci una marea di incubi e poi sai la casa è anche un po' ironico invece no io proprio io l'ho visto da piccolo anch'io la casa ma non mi terrorizzò affatto ma mi aprì le porte alla passione per il cinema perché mi trovavo talmente geniale e mirabolante nelle scelte di riprese in quadratura sì c'è tanta creatività poi io non ho capito più niente poi in realtà non ho dormito la notte proprio incubi veri e poi il giorno dopo mi sono svegliato come un tossico avevo voglia di riprovare quella adrenalina lì e allora da lì ho iniziato a cercare di guardare altri film finché non sono diventato ossessionato poi in quel periodo usciva anche Dylan Dogg quindi io ho accompagnato la passione per Dylan Dogg e il cinema e anche Caroghons diciamocelo anche Dylan Dogg a dieci anni faceva una paura incredibile sì no a vero faceva paura vedi qua le differenze non faceva paura però il primo che è il più romeriano di tutti quello con gli zombie non è un Dylan Dogg molto divertente è un Dylan Dogg molto cupo quello mi ha mi è piaciuto parecchio e mi ha fatto innamorare questo qua tra l'altro vorrei dire ma quello originale no una ristamba c'è no anche perché per come erano fatti all'epoca gli originali sono distrutti cioè la colla non ha tenuto cioè sono delle robe no questo era un copanetto meraviglioso della Bonelli ah ok con dentro la qualunque e il numero uno in ristamba e comunque all'epoca non lo direbbe nessuno però ero anche molto intrippato col mondo del soprannaturale ah quindi eri un congiuriano ero congiuriano fondamentalmente no non è che ero congiuriano però ero cioè speravo che esistesse questo mondo soprannaturale però ero piccolo cioè c'è una prima media beh avrò delle attenuanti cazzo prima media un po' tanto speravo che esistessero diciamo poi magari in cuor mio sapevo che non esistevano anzi soprattutto io speravo che esistessero sia le creature ma anche le creature dei film speravo che esistessero nella realtà tipo Freddy Krueger però non è purtroppo non è stato così comunque si ero un po' congiuriano ero un po' perdonami vabbè parliamo anche ma non è che ti stai tramutando in uno dei personaggi di The Sadness cosa fosse ah è vero ma la tosse no 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 io ho pensato più a Brandon Mosca Brandon Mosca che inizia un po' a perdere i colpi uno dei miei preferiti in assoluto ma quando li riguardi io devo tantissimo alla Midnight forse non mi sarei spinto così là con le recensioni se non avessi avuto il supporto comunque anche di aziende che mi mandavano i film eccetera e devo tantissimo perché sto rivedendo i film del passato in lingua originale in 4k cioè io li avevo visti su canale 5 con le interruzioni pubblicitarie e la qualità di merda doppiati invece oggi grazie appunto a questo piccolo secondo lavoro che faccio me li rivedo tutti ed è veramente una bella una bella emozione è arrivata Sara ciao Sara benvenuta e allora parliamo un attimo dei giochi calma eh perché io non voglio perdermi la parte dei giochi intanto voglio vedere se Thomas è riuscito per favore a a copiare il link ma io volevo farti seguire su Instagram Tom se riesci a mettere i profili Instagram di aspetta che lo faccio aspetta la faccio io perché no allora io volevo volevo sapere la passione tu hai aperto un progetto con Luca Maragno Luca Maragno ha una storia nel mondo dei giochi da tavolo Luca Maragno ha una storia nel modo cinema nel senso che lavorava per best movie è un bel giorno alle giornate professionali del cinema ci siamo incontrati in un pub e ubriati avete deciso bucissimi però stranamente però ci siamo abbiamo iniziato a parlare chiacchierare ed è saltata fuori questa cosa grazie a un altro nostro amico che ci ha messo un po' in contatto e abbiamo scoperto di essere appassionati folli di giochi da tavolo e qui oggi dopo qualche anno abbiamo messo su questo piccolo game studio che comunque siamo riusciti a realizzare già alcuni giochi e ne siamo molto molto fieri anche perché uno dei brand brand numero uno per noi è stato il gioco da tavolo di Diabolic di cui siamo veramente fieri e contenti e di cui abbiamo fatto uscire anche questo ma ce l'hai ce l'hai lì fisicamente non ho qui il gioco da tavolo quello vero e proprio che è la versione super big mentre l'anno scorso siamo usciti con questo qua che è l'espansione no è un'espansione o è proprio un gioco in verità è un card game che è un gioco più contenuto di dimensione con tutte le carte del caso una chicca pazzesca per gli appassionati di Diabolic con pedine una marea di materiali tra l'altro io ho una persona che segue le mie live che è super appassionata di Diabolic che è Vittorio e quindi io non lo so chiedo a Vittorio io voglio che Vittorio ti faccia una domanda di quelle che ti mette all'angolo proprio non lo so mi commenti sotto però ti prego aspetta perché adesso mi ritorno tra di voi sto cercando adesso ho finito di raccogliere i tuoi link perché mi piacerebbe che le persone che mi seguono potessero provare intanto seguirti per sapere cosa porterai perché poi magari ne riparliamo in futuro ecco vi metto i link di Vertigo Advertising per il discorso del cinema delle edizioni e Dumb Things che è il progetto legato ai giochi da tavolo mi raccomando vi ho messo i link in chat andate a seguire queste due pagine Instagram per favore ho letto la domanda di Vittorio e in verità non ho un disegnatore favorito però mi è piaciuto mi piace Buffagni mi piace molto il fatto che comunque ci sia questa varietà di illustrazioni in verità lo trovo una cosa molto bella e nel gioco da tavolo abbiamo inserito c'è molta fedeltà nel gioco da tavolo nel gioco da tavolo abbiamo inserito 70 carte completamente diverse l'una dall'altra che hanno dentro 70 tavole di disegnatori random di tutti i decenni di storia di Diabolic quindi abbiamo voluto fare proprio un omaggio a tutti quelli che hanno disegnato Diabolic che sono tanti e sono degli artisti non indifferenti ti faccio una domanda io su Diabolic che siccome ho visto il film e l'ho valutato comunque un prodotto così così nel senso né eccellente sembrano neanche da criticare troppo perché comunque c'è tanta roba buona dentro il film per esempio mi è piaciuta molto la storia che mi sembra mi abbiano detto è un grande mashup delle cose più belle che sono state fatte di Diabolic quindi la storia è appassionante alla fine come è scritta mi è piaciuta una parte in cui lui scappa e proprio in un punto qualsiasi della città lui schiaccia un pulsante e compare una rampa di lancio per la macchina per saltare e questa è una caratteristica che sembra una stronzata nel film in realtà per chi conosce Diabolic lui mi hanno spiegato costruisce per tutta la città un sacco di questi trucchi per sfuggire giusto? sì ma infatti ci siamo gasati come dei pazzi quindi nel gioco chiaramente questo è un elemento è un continuo ma infatti nel gioco anzi una sera ci vediamo ma ti fai delle risate incontenibili perché comunque sei lì a catturarlo e vedi che prende la macchina sparisce nel nulla perché finisce in un tombino costruito da Diabolic in mezzo alla montagna cose senza senso ma divertentissime alla fine fondamentalmente lui è già ricco Ruba per motivo super particolare perché per costruire tutte queste cose deve essere già ricco puoi distruggere il film quanto vuoi perché io non ho nulla a che vedere con il film no no ma io non lo distruggo a prescindere perché poi mi sembra sbagliato che uno dica ma non si fa più cina di genere poi uno ci prova e tu lo massacri esatto no no va giudicato per quello che è secondo me è un'operazione che andava fatta l'hanno fatta e purtroppo però lato mio io la cosa che non mi è piaciuta di più è la recitazione proprio che trovo però per il resto non è neanche fatto così male mi è piaciuto lo stile molto retro di tutto anche proprio a livello cinematografico la volontà di farlo sembrare quasi antico il vecchio fumetto sembrava ma credo che sia tutto voluto Gonz ma anche la recitazione è fatta così perché fondamentalmente sono molte delle battute se non tutte sono tratte da delle tavole degli anni 60 quindi sono proprio frasi tipo ah bang mi hai colpito cioè è proprio fatto così ed è una cosa appassionale è un prodotto che non può piacere a tutti sicuramente ha una micchia di fan comunque poi Stefano chiede chiede del gioco da tavola della cosa ma comunque ci arriviamo chiaramente tu hai iniziato lavorando collaborando con giochi che non diciamo non producevi tu o comunque è come la cosa appunto che è stato forse il primo no guarda noi abbiamo come studio abbiamo realizzato tre giochi da tavolo che sono il gioco di Diabolic ufficiale il gioco Diabolic Story che è questo gioco che può essere usato sia da tavolo che in maniera autonoma si può giocare anche da solo questo che è un'esigenza che vedo esserci sempre di più nel mondo dei board game no? perché anche molte persone magari adulte non hanno difficoltà a incontrarsi però amano questi giochi e vorrebbero quantomeno provarseli a casa anche se sono da sole è un il famoso solitario come il gioco da questo invece è il nostro primissimo gioco che invece non può essere giocato in solitario che ho Raide tratto da un film non te lo ricordi che me l'hai regalato quello? si che me lo ricordo ah ok no perché prima mi sembravi smemoratissimo ho detto ma non si ricorda niente a me non mi ricordo assolutamente nulla ma devo tenere a mente 1600 titoli di film ogni tanto mi chiamano e mi dicono ehi ma quel film che hai fatto 4 anni fa a gennaio cervello fuma completamente no quindi questi sono i giochi che abbiamo realizzato però tu come diciamo privatamente come designer come grafico hai collaborato per per il gioco come graphic designer ho fatto poi ho lavorato a questi due progetti molto grandi che però non realizzo chiaramente da solo ma con un super team di gente alle spalle che sono il gioco della cosa The Thing che è uscito due anni fa ed ha avuto un notevole successo è un gioco collaborativo posso fare una critica magari mi sbaglio ma nel gioco della cosa che originalmente dovevano esserci le miniature in 3D diciamo ci sono ci sono perché ho visto delle foto dove ci sono i cartellini diciamo ai segnapost perché solitamente nel gioco base c'è la versione con le pedine di cartoncino e le pedine normali sono sono presenti nel gioco base guardate ma cosa è successo? il mio figlio non poteva resistere a portarmi il mix arrivo che sa che mi il bello è che io ho detto guarda oggi ho un'intervista quindi non venire per la qualsiasi cagata è venuto per una cosa importante farmi sapere che mi è stato comprato il mix che amo questo con cui mi facevo venire mal di pancia mentre guardavo Ritorno a Futuro da giovane e continuo a far venire mal di pancia che cosa guarderai? stasera è bella domanda allora sto entrando in un loop allora siccome ho fatto un mese di NaoTV adesso sto facendo un mese di NaoTV un mese di adesso voglio fare sette giorni di prova di Paramount vado nelle varie piattaforme e mi guardo le cose che non ci sono quindi ho visto un po' di roba di Bill Neve e ho visto Blade Runner 2049 e Dune e mi sono piaciute entrambi di brutto sono due film eccezionali sono due film eccezionali io infatti oggi ho fatto una mini recensione di Blade Runner e ho detto avrei voluto vederlo quando è uscito per buttarmi nella mischia di quelli che lo criticavano perché così facevo un macello sai tipo barbaro nella lotta cioè entravo dentro e ammazzavo tutti perché veramente cioè film così non se ne vedevano veramente dai tempi cioè film di genere è così pur di non perdermelo sono andato al cinema da solo perché comunque è un film che non volevano quindi tu non sei uno di quelli che questa è una domanda anche che avrei voluto rifarti non sei uno di quelli che fanno il sequel fanno il remake e se inizi a rompere le palle che non vanno fatte non me ne frega niente soprattutto se se vengono messi nelle mani giuste se l'hai messo in mano a Villeneuve cara grazia una schifezza sicuramente non può venire magari può venire un film non riuscito al cento per cento ma non è che lo stiamo dando a M quale ti è piaciuto di più Dune o Blade Runner così proprio emozionato di più Blade Runner me l'ho trovato veramente eccezionale vuol dire che Dune invece mi ha creato una voglia pazzesca di vedere cosa succede il seguito e si no e infatti io nella mia recensione di Dune che adesso io ogni tanto vado anche off topic perché comunque come dico sempre quando qualcuno arriva sul canale questo è un canale cinema horror ma se ami l'horror devi amare anche il cinema se no c'è qualcosa che non torna esatto di Dune ho detto proprio che lì c'è tanta capacità di incuriosirti atto dopo atto cioè ogni ogni atto che passa del film tu sei sempre più curioso di vedere cosa accadrà dopo e dopo e dopo e come schiudono tutti gli questa cosa è super criticata invece perché dicono che non accade nulla ed è solo un pezzo di film che quindi che è interrotto a metà che è un film in due parti quello è evidente ma va accettato come forma mi sembra anche abbastanza dichiarato ma è poi è visivamente una cosa pazzesca mi sono pensato maramente di non avere visto Dune al cinema ho visto Blade Runner ma Dune no al contrario di te Dune andrò a vederlo sicuramente e probabilmente anche in un IMAX perché è una di quelle esperienze indimenticabili si probabilmente andiamo insieme va volentieri ecco io mi sono fatto una settimana di malattia terribile e avrei voluto vedere Bones and Hall tu come sei messo con Guadagnino che non è un mio idolo ma non lo adoro alla follia ma sicuramente nel momento in cui avrò occasione probabilmente non al cinema ma Suspiria ti era piaciuto o era Suspiria mi era piaciuto io su questo generalmente mi sono piaciuti non c'è non ci sono sui film che non mi sono piaciuti allora ti faccio già la domanda faccio già la domanda che avevo qua in serbo visto che parliamo già delle cose nuove così visto che si sta chiudendo l'anno quali sono i film insomma che ti sono piaciuti che ti hanno proprio dato speranza per il cinema nel 2022 ma neanche uno dai no non può essere scherzo ma magari sei andato poco al cinema visto che sei un pochino più preso in questo momento della tua vita no sono assolutamente preso e non sono riuscito a andare molto al cinema lo ammetto però no l'hai visto visto che qualcuno in chat prima non l'ho visto ma io sono ho un piccolo problema sono un po' seguo seguo abbastanza assiduamente recensioni e commenti il che potrebbe rovinarmi completamente le visioni dei film infatti nope ne ho sentito così così e insomma mi ha fatto non mi ha fatto venire voglia di andare al cinema penso che beh io ho Sky quindi lo guarderò nel momento stesso in cui esce quello sì assolutamente però non lo so lui io è inutile che te lo debba ribadire ma tu devi ascoltare solo quello che dico io ovviamente ma quello che dici gonze è legge grazie è un po' buono mi sembra di essere abbastanza allineato al tuo pensiero al pensiero unico ma ti chiamano in diretta ormai ma che sceglie non mi chiamano nessuno il bello è che sto vivendo un momento distopico di associalità totale mi faccio una diretta con l'ospite e mi chiamano gente che non mi ha mai chiamato ma no ma è incredibile perdonami la tosse ma non ne uscirò mai credo ma guarda lo sai però tornando alla tua domanda faccio veramente ti dico i film più belli che ho visto quest'anno e sono tutti i film piccoli poi magari me ne nomini qualcuno te dei migliori in assoluto e vediamo se me li sono persi per strada ma sì ne pensi non è che ci sia molto io ho apprezzato tanto quest'anno qualcosa di Midnight Factory mi è piaciuto Bakes per esempio sì anche se non lo metto nei film più belli di Midnight anch'io anch'io non lo metto mi è piaciuto ma io ho trovato bellissimi altri film di Midnight ultimamente ho visto The Innocence che è molto bello se sei nei canali mi manca abbonandosi ai canali si vedono in anteprima ma naturalmente escono poi in un video quindi ragazzi aspettate che escono in un video ma infatti io ho questo piccolo problema che mi chiedono spesso quando esce un film sul canale Midnight se l'ho visto cosa ne penso poi il problema è che io gli dico ragazzi però io non posso andarmelo a vedere perché poi quando mi arriva l'edizione è un video che faccio lo riguardo infatti infatti quindi io aspetto l'edizione è un video così faccio una recensione faccio vedere l'edizione magari io a volte dico anche qualcosa tu sai che io sono diciamo faccio il tuo stesso mestiere ma in un altro ambito però comunque sono grafico mi occupo di comunicazione anch'io anche se per cui mi permetto ogni tanto di giudicare anche gli aspetti non delle tue opere perché sono intoccabili però no io lo fai in realtà lo faccio solo quando vedo dei poster totalmente cannati allora per fare anche un po' di content si ride si non è il poster più cannato no vabbè ma si parla di cose dove tu hai magari uno sfondo rosso e la scritta rossa sopra ecco passando di pallo in frasca ogni due secondi che dici no vabbè ma secondo me è anche divertente per chi segue perché comunque è un argomento purtroppo a lungo però capisci bene che non bisogna essere grafici da vent'anni per capire che non puoi mettere una scritta cioè o che comunque o comunque rionizzo magari su persone che si fanno fare la locandina proprio da chi non ha idea di cosa sta facendo e magari io ho questa teoria una teoria che poi magari tu mi dici no ci possono essere anche però questa teoria per renderla semplice che una locandina o ti racconta qualcosa o ti incuriosisce cioè o in qualche maniera ti crea curiosità invece ti dice una cosa sbagliata o non ti dici niente sei ben lontano dalla riuscita di quello che stai facendo certo detta proprio in modo semplice poi ci saranno anche altre strade e quindi critico magari le locandine di film magari indie che non hanno dietro un professionista come te o qualcun altro che gli può fare un lavoro un po' più sensato ecco sì poi per carità ci sono anche dei post ieri giusto con Luca commentavamo un poster che ci ha lasciato veramente perplessi che vi invito commentare guardare uscirà penso come nuove franchise anche Dungeon and Dragons tornando ai giochi da tavolo esce il film di Dungeons and Dragons ho visto il poster proprio prima poco prima che venire qua che mi ha lasciato sconvolto completamente perché un poster così per un film del genere non me l'aspettavo sono veramente scima mentre se guardi quello dei tre moschettieri a me ha dato un po' noia il look and feel proprio dei personaggi nel senso che veramente sembra un film fatto negli anni 80 ma male sì ma poi considera che anche dal punto di vista contrattuale spesso devi mettere dentro dieci facce in un poster non è che può venire qualcosa di originale o figo sempre perché hai degli obblighi però c'è modo e modo quello lì è veramente veramente brutto no tornando ai film sto leggendo quelli che sta segnalando io mi sento assolutamente in linea con Thomas perché per me per me il film più bello che ho visto quest'anno è Speak No Evil che è un film che uscirà spero uscirà sì è uno di quelli che non sto guardando perché spero termine l'edizione livelli cosmi di angoscia incredibile già io comunque avevo visto qua in live il trailer diversi mesi fa e c'eravamo proprio detti minchia secondo me potrebbe piacerti tanto non è il genere naturalmente esplosivo con mille accadimenti cioè ritmi cadenzati che ti entrano nelle viscere e ti fanno impazzire io vado a mano per questo genere soprattutto Mauro benvenuto se viene dei paesi nordici non sono non sono mica male a realizzare opere originali e veramente aggressive come questo poi lui ha segnalato anche beh Thomas vado a rivedere perché la sua lista mi ha fatto impazzire infatti no lui ha scritto The Innocence Speak No Evil e Wolf Hunter Wolf Hunter perché l'ha visto ieri sera secondo me è editato troppo generoso devo dire che è una bella sorpresa Wolf Hunter però è comunque secondo me poi chiaramente Tom tu se ti piace giusto così però è un film piccolo comunque in qualche maniera Giorgione ha segnalato il buon Giorgione il miglior secondo me è quello che sicuramente sarà il miglior film dell'anno non sono ancora riuscito ad andare al cinema a vederlo che è Triangle of Sadness io mi ci gioco tutto alla prossima live io ti dirò che il miglior film che ho visto negli ultimi dieci anni sarà sicuramente quello però devo andare a vederlo Giorgione secondo me hai visto hai visto lungo se l'hai visto anzi dici se se merita veramente però quel regista ragazzi comunque un bel messaggio per te che di Mauro che dice Matt mi saluti sono un tuo grandissimo fans ma chi ma io sai che c'è sempre il rischio che questo un troll ma no tutta una cricca di 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 gente che conosco orribile che ti prende in giro che viene qua e ti prende in giro ma qui ci sono dei troll galattici c'è gente che parla del calcetto del giovedì ma magari invece è un vero fan ma non avete niente da fare ma andate a casa andate a casa ma pensa se invece è un vero fan e tu lo tratti così ah Mauro sei una persona grandiosa veramente e quindi sì facciamo un gioco al contrario Gons fammi una fammi una tua mini classifica dei due o tre preferiti e ti dico se concordo guarda io sono devo dire che questo è un anno abbastanza scarico secondo me nel senso che ci sono stati anni migliori no? gli anni di Midsommar un sacco di cose più fighe poche ma molto fighe sono della tu non l'hai visto però sono dell'idea che comunque anche a me Nooper non mi ha fatto impazzire comunque c'è troppo entusiasmo quando si vanno a vedere questi film cioè la gente li guarda esce dal cinema e siccome sono autori che sono consacrati come dei fighi quindi Jordan Peele allora si esce dal cinema convinti che bisogna gridare al capolavoro secondo me è un po' esagerato anche perché poi loro stessi proprio perché si stanno affermando magari perdono un po' quella spinta quel coraggio tipico di quando sei all'inizio quindi io sinceramente non vedo grandi film grandissimi film di quest'anno però vedo tante cose vecchie grazie anche al fatto che in realtà vedo i film che escono della Mild di altre cose quindi sono ben contento devo dire che voglio spezzare una lancia a favore di alcune cose che sono uscite sulle piattaforme visto che le si criticano spesso per esempio Incantation che è un film cinese è un film che meriterebbe un po' di più poi adesso così su due piedi non secondo me poi i film super belli non lo so ne passano troppi ne passano troppi me li dimentico però sto riscoprire per esempio ieri sera ho visto un film vecchissimo che non vedevo quasi gli anni 80 quasi dimenticato che è Il buio si avvicina non so se te lo ricordi di Vampiri della Bigalow ed è la regista di Strange Strange Days esatto e di Point Break quindi non una una brava ed è un film alla Ragazzi Perduti ma è uscito lo stesso anno di Ragazzi Perduti quindi hanno più o meno lo stesso ed è veramente un film che ho delle atmosfere stupende delle proprio delle ambientazioni create alla grande ecco quello è quello che manca la capacità la capacità di creare ambientazioni invece Villeneuve ha Villeneuve ti crea un'ambientazione che parla che ti avvolge crea un mood tu sti tuffi dentro ecco adesso io ultimamente ho una campagna in ballo contro le serie tv perché il mood delle serie tv è ok l'ho guardata non mi sta piacendo e gli amici ti dicono eh ma arriva almeno la quinta la quarta perché poi dopo diventa bello ecco per me è un ragionamento del cazzo perché un film bello scritto bene ti prende per mano piano piano ti porta dentro la storia e a un quarto d'ora sei dentro una serie tv si può permettere di fare schifo quattro episodi tanto sono gli altri che ti dicono dai finiscila quindi questo è un po' la tua parte ne ho visti mille e non ci casco più serie ne ho viste a bizzeffe ma non ho proprio più voglia a parte che nel tempo in cui vedi una stagione di una serie ma tornami spesso è così che dico io cinque film di cui probabilmente due bellissimi quindi una cosa che non ha nessun senso la serie tv è costruita a tavolino per intrattenerti va benissimo ti piace ok evitiamo un paragono di coltine ma ci sono serie stupende va bene però 20 ore della tua vita 40 per vedere una roba perdonami Hiroshima mi ha ricordato che un film che ho consigliato che è stato forse uno dei forse è il più bel film che ho visto quest'anno a livello di horror è The Humans che è un film di una famiglia che si ritrova in una casa nuova una casa mi sembra in New York tutta scricchiolante che parla comunque delle problematiche di una famiglia quindi malattie problemi di soldi eccetera si ritrovano tutti ci sono anche dei problemi un po' più grossi che poi verranno svelati e questa è una casa scricchiolante proprio dove tutta vuota dove quando parli si sente il rimbombo si sentono dei rumori strani ed è figo perché è un film drammatico ma raccontato come se fosse un horror e ne ho parlato parecchio ho fatto anche una recensione su YouTube ed è un film che non si caga a nessuno ma è una meraviglia cioè uno dei migliori film che ho visto su che piattaforma era su Mubi era su Mubi beh Thomas ha ragione per Breaking Bad se non avesse superato la prima stagione si infatti infatti ma è uno dei rari casi però solitamente le stagioni sono delle montagne rusche quasi sistematiche parti di Benino diventano bellissime alla terza quarta stagione per diventare delle ciuffiche totali sul finale questo è un caso secondo me Breaking Bad è uno dei rarissimi casi dove il picco è alla fine solitamente il picco è alla terza stagione e poi diventano tutte scontate orrende e tu hai perso hai perso tre giorni della tua vita se vai a sommare le ore per vedere una cosa ma no è tempo perso è tempo perso bene bene sono contento che mi dai manforte su questa mia battaglia poi io divento stavo anche abbassando il tiro dalle serie ero passato alle miniserie perché ce n'è di molto molto belle si ma è già comunque ti chiedono un impegno minore quindi dici vabbè è vero però ho notato lo stesso identico meccanismo cioè la miniserie però ti spalma in sei ore quello che potrebbe dirti in due allora fate un film cioè è una cosa che non ce la posso più fare è troppo che ti ho perso troppo troppo sì sì no concordo io superi fin da un'ora e mezza già per i fatti miei devono arrivare due ore già se superano le due ore vi da un po' ciao Alca non c'è dono della sintesi comunque ragazzi se vi piacciono questi contenuti vi ricordo che questo canale lo potete supportare con gli abbonamenti regalando abbonamenti donando bit insomma io ci trovo Natale poco eh e anche Natale tra l'altro esatto un applauso al Natale non vanno più oh non vanno più gli audio bene no scusa una cazzatella comunque caro Zonzo ti dico la mia tripletta dei tipi che ho visto in ultimi vai anni così almeno perché tanto è inutile fare la classificona del 2022 perché faccio un po' fatica a tirare fuori cinque titoli stupendi ma i film più belli che ho visto negli anni sono nell'ordine The Square che è del regista di Triangle of Sadness The Square che finisce in una classifica mondiale c'è su tra l'altro credo su Prime Video quindi una cosa da pazzi impossibile da non vedere ma tu mi consigli sempre film bellissimi quindi io mi fido specificamente sì uno l'hai visto e non so se ti è piaciuto che per me è uno dei più bei film degli ultimi anni horror che è Lonely Hearts Killer sì sì adorato adorato è un film veramente anche Calvero visto poi è bellissimo è Calvero è bellissimo però Lonely Hearts Killer ero troppo sofisticato sì per me infatti è veramente un film incredibile ed ha più visioni è con una recitazione fuori di testa fuori di un livello altissimo e poi il terzo film che per me rimane nella classificona dei miei film senza una cronologia ben precisa è il film più folle che abbia mai visto e me lo sono visto tutto d'un fiato una notte è Victoria che è un film che è uscito praticamente in tre sale in lingua originale un film tedesco è un film che si trova credo ancora su Prime Video è un film di due ore e mezza io vi consiglio se avete la serata giusta di prendere sdraiarvi con un bel drink una bella tisana quello che volete vederlo in tedesco con i sottotitoli in italiano perché tra l'altro non credo che ci sia doppiato su Amazon lo iniziate a vedere sembra che sembra che noi ci siamo messi d'accordo perché adesso mi parlo io parlo sempre del fatto che bisogna guardare i film in lingua originale per svariati motivi e ora tu stai consigliando di vederlo nonostante pochi sappiano il tedesco però consiglio di vederlo comunque no anche perché è solo sottotitolato però secondo me ma l'atmosfera comunque la lingua ti trasmette l'ambiente io sono in Giappone sento parlare giapponese io penso che anche se non capisco il giapponese mi faccia bene il coinvolgimento guardarlo in giapponese con i sottotitoli ma infatti anche una delle poche serie che ho visto quest'anno è naturalmente perché ne hanno parlato tutti ma non per questo l'ho guardata ma è Squid Game perché comunque mi interessava molto vabbè poi ha anche delle tematiche interessanti perché è stato bellissimo vederla in coreano eh sì 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 perché poi fa strano sentirli parlare in italiano è un'altra cultura l'esperienza è stata vedersela in lingua bellissimo e comunque Victoria lo straconsiglio perché sì sì è quello forse ho capito Giorgio me ne parlava tempo fa io l'ho snobbato quindi vado vado punito ulteriormente è quello in fan footage diciamo tra virgolette sì però sinceramente Gonz non ti do tutti i torti perché anch'io ho dovuto trovare il momento giusto e l'ho un po' azzardata ed è veramente un macigno a volte capita sta roba che tu dici ma che è sta roba non ne parla nessuno lo metti su e hai trovato la bomba no? ma a me sinceramente se tu se una persona chiunque di noi prende quel film lo guarda mi promette che lo guarda in one shot devi vederlo tutto la stessa sera non a pezzettini non guardando il telefono tu devi metterlo su non guardare il telefono guardartelo tutto fissarlo se tu dopo la visione di un film così non hai provato una delle esperienze sensoriali più incredibili della tua vita io non so che cosa puoi fare cioè escludi le droghe e l'alcol vedere un film così è qualcosa di inenarrabile io ancora adesso ci penso ci penso ancora adesso perché tu è come vivere in prima persona è quello che dico spesso che alcuni film sono veramente preziosi quando ti lasciano tanto su cui riflettere o delle musiche che ti rimangono in testa delle scene ci sono invece serie tv che tu guardi per 4-5-6 stagioni e poi ti guardi indietro e a che cosa pensi di tutta questa cosa che hai visto niente nulla nulla il nulla assoluto mentre altri film fortunatamente ti lasciano addosso e come dire come il loro odore ti lasciano addosso qualcuno di più qualcuno di meno e a volte per 2-3 giorni ti porti sto film appresso e qua mi viene in mente una cosa interessante che non fa più parte della nostra epoca cioè guardare un film e lasciar passare anche un paio di giorni senza guardare niente ma niente cioè lasciarsi addosso il film capito il tempo di ragionarci il tempo di riflettere su quello che hai visto chiaro che non tutti i film richiedono riflessioni sì un giorno un giorno siamo dei divoratori seriali adesso siamo dei divoratori seriali però di culpa poi in realtà è vero ti faccio un esempio di due film che ho visto proprio così perché ho detto vabbè stavo scrivendo delle recensioni uno è quello con Gas ma il mio nome è vendetta sì e l'altro è Troll sono due film veramente agli opposti sono agli opposti ma hanno una cosa in comune sono ricchi di cliché e basta cioè non è che hanno dei cliché e poi dopo c'è una voce personale dietro no sono proprio dei cliché tutti e due nello stesso modo e sono fondamentalmente non ti rimane niente in tasca cioè al di là di come sono realizzati come sono recitati proprio non c'è storia non c'è contenuto sono usciti due articoli sul fatto che sono nella top 10 delle cose più viste su netflix il punto è che se netflix le spara in home page con 220 milioni abbonati è ovvio che anche la fuffa diventa trend ma no ma infatti questa roba è comunque è roba dignitosa ma che veramente non lascia niente trollantere trollantere è bello sì trollantere è carino è carino trollantere ha il suo perché soprattutto ha una voce sua ha una sua identità trollantere è presente quello è fan footage veramente no Hiroshi ma io intendevo mi sono sbagliato a dire che era fan footage Vittoria intendevo che c'è questa telecamera a spalla molto la Lars von Trier no è due ore e mezzo di piano sequenza di piano sequenza ok tipo The Walking Dead ma su The Walking Dead si può dire solo male ciao Lab Dave benvenuto no 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 mi avesse divertito molto all'inizio però ok va bene vedere 10 10 stagioni da 10 puntate volevo ringraziare Midnight per aver portato I'm a Cyborg but that's ok è un bel azzardino quello eh poi non è neanche tradotto però come Thirst non è tradotto secondo me è una bella è il bello di Midnight è una bella operazione perché se se la gente si abituasse a vederli in lingua originale con i sottotitoli arriverebbe più facilmente la roba no ma si bisogna anche perché per avere un doppiaggio fatto non benissimo allora non vale proprio la pena avercelo cioè il problema è che il doppiaggio fatto bene è costosissimo e comunque il bene è comunque una censura di ciò che è l'opera l'opera originale perché vai a cambiare un sacco di cose quindi non lo so come sei tu per l'edizione in lingua originale ma guarda io non sono così estremo nel senso che se devo dirti la verità il 90% delle cose le guardo in italiano semplicemente perché alla sera mi stanca meno ascoltare guardare godermi l'immagine però non è per permettere che ogni volta che faccio che guardo in lingua originale è un'esperienza che dà un qualcosa in più bisogna anche un po' fare l'abitudine chiaramente io anche io faccio più fatica all'inizio adesso faccio fatica a vederlo in italiano per esempio quello con gas ma avrei voluto vederlo doppiato in inglese non da lui però per carità senti ma nei giochi da tavolo io mi sono sempre chiesto sta cosa tornando un attimo ai giochi da tavolo ma non solo adesso vi rimetto i link degli instagram di di mattias andate a seguire vertigo advertising e dumb things games per i giochi da tavolo ma nei giochi da tavolo horror però non ci sarà mai l'atmosfera horror dai quello no ma dipende guarda devo dirti la verità c'è proprio di paura di ansia guarda che invece The Thing The Thing che è quello a cui ho lavorato devo dire che quando quando Pendragon e i ragazzi che l'hanno sviluppato mi hanno invitato a giocarci una sera a giocarci è un gioco da tavolo che coinvolge che è godibilissimo giocato in otto per dire non in due in otto e il gioco vive delle dinamiche del film quindi l'ansia di sapere chi ha dentro la cosa e queste robe uno al tavolo è la cosa e uno al tavolo è contagiato e è incazzato nero ma sa di essere contagiato e deve nasconderlo in tutti i suoi modi quindi è un gioco di bluff pazzesco perché si crea comunque sembra divertente però si ride anche cioè comunque ma guarda si ride perché i giochi devono farti divertire come un pazzo e io ridevo come un pazzo perché la mia ragazza era stata veniva accusata a ripetizione da della gente che non aveva mai visto prima e lei era in difficoltà diceva stanno aggredendo il personale e io ma no perché potresti essere la cosa ma il film lo conosceva o perché sai magari no lo conoscevo perché magari non conosce nel film dici ma che il bello dei giochi da tavolo è che se hai il tavolo giusto con le persone giuste è un altro tipo di esperienza immersiva divertentissima io sono pigrissimo non ho gruppi quindi mi dovrai coinvolgere tu perché tra l'altro tipo un Natale fa o due Natali fa mi sono autoregalato il gioco della notte dei morti 20 beh quello è basato su Zombicide esatto è un sistema che ha venduto milioni di copie al mondo è un gioco di grandissimo successo ti prego vediamoci e giochiamoci perché ah si sei sempre messo nel mirino allora ti prego studiati le regole e vieni a parte che le regole sono di una facilità incredibile ma secondo me io ho quel blocco iniziale che mi fa sembrare tutto difficilissimo giocandoci con uno che sa già le regole eh lo so lo so ma io credo anche che se uno impara a giocare a un gioco poi l'altro gioco gli sembra più semplice c'è perché capisci entri in una mentalità di dinamiche di gioco che ma poi il giorno d'oggi c'è anche la salvezza delle salvezze caro Gons non prendi più il manuale non prendi più il manuale ma c'è il tutorial su youtube di 10 minuti dove c'è dove ci sono degli influencer dei giochi da tavolo che te lo sanno spiegare alla perfezione in 10 minuti e poi sei in grado però quello è veramente bello anche graficamente perché riprende proprio è stupendo guarda io infatti lo dicevo in live parlando appunto di questo incontro qua dicevo io a questo gioco non sono assolutamente pentito di non averci mai giocato perché è così bello che è il mio tesoro proprio cioè io me lo tengo lì tutte le miniature belle poi tra l'altro sai che ha la versione Romero praticamente poi switch a un certo punto cioè non decidi tu quando switch c'è un momento random in cui switcha e va in bianco e nero diventando molto più limitato perché chiaramente è più simile al film tutte le carte diventano in bianco e nero cioè è una roba bellissima è molto molto d'atmosfera infatti lo vorrei provare volentieri caro mio dai grande io ti lascerei anche andare perché sei c'hai tutte le tue cose da fare come vedi le live sono molto molto easy quindi sei rinvitato quando vuoi a parlare di qualsiasi cosa vedi un film entri ne parliamo quando ti pare se ti va ma volentieri perché mi piace molto discutere con te anche soprattutto adesso Midnight ci dà un sacco di spunti perché comunque tra i titoli che escono c'è sempre qualche perla su cui discutere adesso anche anche Sadness comunque insomma Sadness ho fatto la recensione tra l'altro nella mia recensione facevo un parallelo con un fumetto da cui è tratto il film che è Crossed che ti consiglio molto figo sì sì no poi a me piace molto il fatto che Midnight comunque anche se non porta sempre dei capolavori porta un sacco di roba e crea un canale sembra quasi veramente una un edito un non lo so è come se pubblicasse continuamente roba cercando di mantenere un livello alto non sempre ci riesce però non porta neanche cose scandalose cioè le cose le cose meno belle che ha fatto sono comunque film dignitosissimi quindi 150 film belli sarebbe stata un'impresa impossibile 150 quest'anno o no non lo so ma anche più non lo so tra quelli classici ormai siamo io qui ho harddisk che mi fumano guarda mi ho sfondato tranquillamente i 1500 quindi figurati la qualunque quindi Sadness ti è piaciuto parecchio? Sadness mi ha proprio divertito si è divertente mi ha un po' lasciato così il finale eravo in un finale un po' più sono d'accordo con te però a me piacciono i finali un po' strappalacrime o romantici o di sacrificio o eroici non so ci deve essere qualcosa questo è lasciato un po' così oppure ipercinico ma sì anche secondo me non è stato il finale dei sogni però devo dire che devo dire che il il vecchietto molestatore della metropolitana che continua una volta che arriva io impazzivo questo ci sono almeno due o tre scene con lui che sono da storia sì soprattutto quella finale dove incontra finalmente becca la tizia è una roba a fratti dicevo una roba non accettava quella è abbastanza estrema non la possiamo dire perché è troppo spoiler è forse è il momento clou del film troppo divertente va bene ti ringrazio rimetto i link ragazzi mi raccomando andate a seguire Mattias poi insomma cerchiamo di che non fa un cazzo ciao Thomas ciao Sara se volete salutarlo in chat così facciamo le cose per bene se volete salutare Mattias iscrivete in chat mi raccomando ciao andraste ragazzi avete messo dei bei consigli anche di film nella chat e prima di uscire me li segno tutti me li appunto perché leggo dei titoli interessanti ma adesso io non per vantarmi però devo dire che ho una una chat abbastanza istruita nel senso che è tutta gente molto molto colta sì molto colta che faccio fatica a stargli dietro capisci però alla fine per me questo ciao Mirko tra l'altro non so se è stato salutato prima Mirko è il mio grande collaboratore di tabù quello delle magliette fagli vedere la maglietta tac mio collaboratore con un sacco di cose che abbiamo fatto insieme è un grandissimo un grandissimo mi piaccia tantissimo no dicevo faccio ah ok no dicevo faccio un po' fatica a stare dietro alla chat perché comunque sono tutti molto bravi istruiti eccetera quindi però alla fine è bello per me essere qua a parlare di cinema ma allo stesso tempo anche a imparare quindi va bene così se ne frega sti cazzi va bene allora niente grazie Mattias grazie di tutto poi se ti va veramente vecchiamoci per giocare come se fossimo ancora adolescenti quando sei libero e quando hai voglia non c'è tanto abitiamo nella stessa città siamo fortunati grande grande grazie mille ciao Mattias grazie di tutto ciao 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 Grazie a tutti